Il mio TED Talk verte sull'ansia, è già questo, dice molto lunga sul mio stato in questo momento, quindi, grande. Riconoscete la lettera alle mie spalle? È un H in corsivo maiuscola, probabilmente l'ultima volta che l'avete vista facevate ancora gli elementari. Il corsivo minuscolo, ma peggio ancora quello maiuscolo, è una delle tante competenze che mi sono state trasmesse in questi 35 anni di vita, che non si sono rivelate proprio necessarie. Se dovessi fare una top 3, un podio immaginario, ci affiancherei da una parte le divisioni a due cifre e dall'altra la memorizzazione dell'incipit della Divina Commedia. Vi dico la verità, a volte questi 35 anni mi pesano come se fossero il doppio. Ma qualora ci siano stasera tra il pubblico dei giovani esponenti della Gen Z, o qualunque altra lettera si utilizzi per quelle successive, ecco, sappiate che quando andavo a scuola io, le calcolatrici erano già inventate, beh, non esistevano, e Gutenberg aveva già inventato la stampa. Perciò memorizzare dei brani, per quanto Immortali ed Eccelsi, era quantomeno superfluo. Ma perché vi sto mostrando un H maiuscola in corsivo? È perché è con lei che è cominciata la mia ansia. Avevo solo 7 anni e facevo la seconda elementare in una scuola privata di Roma, di proprietà di un gruppo di religiosi, i Padri Scolopi per la precisione. Forse, per scontare questo privilegio, contrariamente ai nostri compagni della scuola pubblica, alla fine di ogni anno scolastico dovevamo sostenere un esame. E come se non fosse abbastanza, veniva anche il commissario esterno. La maestra cominciava a gennaio a farci terrorismo psicologico, dipingendo il commissario esterno come esigentissimo, illustrissimo, pignolissimo, tantissime altre cose che finiscono inissimo. E in un attimo l'esame di seconda elementare si tramutava nella selezione per accedere alla normale di Pisa. Fai una cosa del genere oggi a un bambino? Come minimo ti arrestano. A quei tempi era considerata pedagogia. Non mi stupisce quindi che tutti gli studenti fossero letteralmente terrorizzati. E si sa che quando la gente è terrorizzata iniziano a fioccare le leggende metropolitane, o quelle che oggi chiamiamo fake news. Mi sa girare voce con una bambina l'anno precedente, e fateci caso, sono sempre femmine le sciagurate, anche nelle narrazioni fittizie. Insomma, la bambina era stata bocciata dall'intransigentissimo commissario esterno perché aveva dimenticato di mettere il trattino sull'H maiuscola. Cioè, pensateci bene, un misero trattino aveva pregiudicato per sempre la sua carriera scolastica. Non sapevo ancora darlo un nome, ma passare le settimane successive che mi separavano dall'esame impreda una vera e propria ansia paralizzante. Non importava quanto studiassi o quanto fossi diligente nei compiti, ero convinta che sarebbe bastato un misero orore di distrazione come quello a pregiudicare tutto il risultato. E a quel punto cosa sarebbe successo? Sarei stata bocciata. Avrei fatto vergognare la mia famiglia, la mia maestra, la mia scuola, gli scolopi mi avrebbero detto ecco, è per colpa tua che i gesuiti si credono stoccando. Sono i migliori nel campo dell'istruzione. Quello che non sapevo quando avevo sette anni è che non si può controllare l'incontrollabile, non si può prevedere l'imprevedibile. E non è neanche sempre vera quella legge di Murphy per cui se qualcosa può andare storto allora lo farà senz'altro. Ma io, come una specie di Cassandra, ho applicato questo principio di catastrofismo al grosso della mia esistenza, provando a rispondere all'ansia con il controllo. E più provavo a esercitare il controllo e più inevitabilmente, come state notando stasera peraltro, fallivo, ecco, si confermava la mia idea, la mia logica disfunzionale, per cui avevo avuto ragione a sottovalutarmi. Non contenta poi, mi ostinavo a paragonare la mia vita con quelle degli altri, che mi apparivano perfette, senza problemi di sorta, o mentre io a sette anni già facevo i conti con la bruciante sensazione del fallimento. Fallimento che non era ancora avvenuto, ma era solo questione di tempo. Adesso voi vorrete sapere come è andato il mio esame di seconda elementare, o forse vi volete far rimborsare il biglietto, cosa che francamente non mi stupirebbe. Ecco, è andato bene. Sono stata promossa. Oh, certo, tutte le volte che delineavo l'H maiuscola, avevo un mancamento, ma il trattino, quello ce lo mettevo sempre. Negli anni mi sono erroneamente convinta fosse andato bene proprio per quello, perché non avevo dimenticato il trattino, o il controllo aveva funzionato. Questa esperienza mi ha indubbiamente temprata. E no, non nel senso che mi ha trasformato nella persona iper meticolosa che mi piace descrivere colloqui quando cerco di farmi assumere. Dovreste vedermi. Gli occhi degli intervistatori che si illuminano quando dico loro un mio difetto? Sono troppo precisa. Dall'altra parte, mi ha reso una persona fondamentalmente molto insicura. Ecco, io ero talmente insicura che non pensavo di avere banalmente la sindrome dell'impostore, come adesso dicono molti. Io pensavo di essere l'unica vera impostrice. Anche perché, parliamoci chiaro, statisticamente, esisteranno più impostori o persone con la sindrome dell'impostore. Ci siamo capiti. Negli anni successivi ho cambiato scuola. Sempre scuola privata, ma questa volta, e insomma sempre scuola religiosa, ma questa volta mi hanno badato a spese. Erano i best in class, i gesuiti. Mi sentivo un po' in colpa nei confronti degli scolopi. Come quando cambi lavoro e vai dalla concorrenza? Come i calciatori che vengono fischiati dalla loro precedente curva? Quelli sono miliardari, sai che gli frega. Io negli anni successivi non ero più un'ansiosa amatoriale, ero diventata una vera e propria campionessa d'ansia, ero passata all'agonismo. Cioè, gli anni dell'H, del trattino qua sull'H, mi sembravano così lontani, così spensierati. C'erano molte più cose di cui preoccuparsi nel mondo di una bambina di quarta alimentare. A cominciare dalla prima comunione, primo, ovvero spartiacque della nostra esistenza. Allora, la comunione si svolgeva a scuola perché, come vedete dalla foto, c'era nel complesso una chiesa anche di discrete dimensioni. La maestra e tutti i gesuiti ci avevano messo tanta di quell'ansia sull'organizzazione di questa benedetta comunione che quando mi sono sposata in confronto è stata una passeggiata di salute. Mi ricordo che la gente mi diceva «Oh, ma Gaia, ti sposi tra due settimane? A parta Uria, ma stai agitata, eh!» E dicevo loro «Ma va! Oh, ma io ho fatto la comunione! Da quel momento e poi, tutta discesa!» La comunione, ora ve ne parlo. C'era innanzitutto lo scoglio della prima confessione che sembrava solo all'apparenza facile. non bisognava fare altro che dipingersi come una persona orribile e in quello, perdonatemi se mi vanto, ero già bravissima. Preparai un elenco di peccatucci irrisori che all'epoca mi sembravano imperdonabili. Risposto male a mio padre. Mi sono accapigliata con mia sorella. Non avevo voglia di fare i compiti o poi però li ho fatti lo stesso. Ma non avevo voglia. La parte che mi preoccupava di più era dover recitare ad alta voce l'atto di dolore davanti al padre confessore dimostrandogli di averlo correttamente imparato a memoria. E badate bene che non era mica un prete qualunque. Era il preside della scuola che per l'occasione assumeva il ruolo di nostro primo confessore. Ecco, ricordo che quel giorno ero talmente agitata perché avevo paura di dimenticare parti della preghiera o sbagliare le parole che l'atto di dolore io l'ho recitato come col due per su Whatsapp. Mio Dio, mi pentami d'olgo con tutto il cuore e i miei peccati perché peccando mi ritrovo che si chiede molto più perché ho offeso te. Passato lo scoglio della confessione il resto della comunione era un incubo a livello di logistica e di rigorose istruzioni ricevute. La maestra ci aveva tenuto a dirci che doveva essere un evento dei più solenni. Dovevamo attraversare la navata in silenzio rigorosamente in ordine d'altezza e io ero anche la prima. Dovevamo essere serissimi ma anche gioiosi perché la comunione è una festa ma contriti non guardare in faccia a nessuno non salutare i nostri genitori non scambiare settordici gesti di pace o alla fine se non fosse stato per l'alleluia alleluia saremmo sembrati tutti degli animali impagliati. C'era poi un fattore esterno che mi preoccupava particolarmente potevo garantire per me stessa non potevo garantire pure per i miei parenti e se mio zio ha detto al filmino dal momento del mio ingresso avessi iniziato ad agitare le mani urlando a bella de zio cosa che peraltro mia madre aveva pure paventato come ne sarei uscita a quali altri ordini sacerdotali avrei potuto affidare la mia istruzione come al solito mi stavo ponendo un problema inutile non solo mio zio quel giorno si è comportato come Carlo d'Inghilterra ma io ne ho tratto un'altra lezione possiamo controllare a malapena noi stessi figuriamoci gli altri non sto qui a raccontarvi tutti i momenti in cui ho fatto i conti con imprevedibilità non basterebbe il tempo a mia disposizione e soprattutto sono meno divertenti più si va avanti negli anni più i miei tentativi di esercitare il controllo assumono delle sfumature più tristi più cupe ho controllato il cibo ho controllato il peso non mi sono voluta bene e questo ha avuto un impatto nelle mie scelte nelle mie relazioni nei miei ninosarratori plurale ma una cosa posso e devo dirvela come ne sono uscita come ho imparato a fare i conti con il fatto che ci sono sempre cose ci saranno sempre cose che sfuggiranno al nostro controllo e non possiamo fare altro che prendere il meglio da quello che abbiamo correndo dei rischi e sapendo che qualunque esito negativo possa verificarsi non impatterà mai il nostro valore come persone io credo tantissimo nell'importanza della psicoterapia e credo che stia facendo la differenza per le persone della mia generazione e nonostante non sia più considerato un tabù da tempo siamo spesso noi i primi che non vogliono ricorrerci perché ci recriminiamo di non essere abbastanza forti ecco nel mio caso non sarebbe bastato essere forte così come non è bastato incasellare qualche discreto successo qua e là io potrei diventare presidentessa dell'ONU domani e ovviamente è un iperbole l'ONU non è che è messa così male manco benissimo ultimamente però insomma non basterebbe dimostrarmi che valgo qualcosa come persona esattamente come non sono bastate le parole d'affetto e di stima di chi mi circondava nel corso degli anni avevo bisogno di fare un percorso non semplice non immediato con una figura professionale che mi aiutasse a cambiare l'idea che avevo di me stessa la psicoterapia è uno strumento potente perché ti permette di guardare alla realtà attraverso un filtro diverso da quello che usiamo quotidianamente e attenzione non quello della positività tossica tutto rosa e fiori ma quello della consapevolezza del nonostante tutto del va bene lo stesso la terapia ti permette di diventare l'adulto di cui avresti avuto bisogno quando qualcosa è andato storto mettendo in relazione il presente con il passato è la cosa più simile a un viaggio del tempo si possa fare ecco io credo che gli psicoterapeuti dovrebbero fare così in marketing ciao Elon Musk salutaci Marte noi andiamo negli anni 90 si sta da Dio peraltro le case sono grandi anche il doppio rispetto a quelle di oggi mentirei se vi dicessi che il problema si è risolto completamente certi automatismi sono difficili da scardinare quando mi hanno proposto di fare questo TED Talk la prima cosa che ho pensato è stata sono pazzi e la seconda è stata stanno raschiando il fondo del barile ma ma io credo che una dosi di insicurezza sia importante mantenerla nella vita perché credo che sia un po' come il veleno che se assunto in piccole dosi paradossalmente non solo non ti uccide ma può anche farti del bene io ho imparato questo in terapia a utilizzare l'insicurezza come una potente alleata mi ha poi aiutato anche a gestire un sacco di situazioni del quotidiano piccole o grandi che siano vi faccio un esempio banale un tempo quando qualcuno mi faceva una domanda e io magari non avevo sentito cosa che penso sarà capitata anche a voi io andavo letteralmente nel panico adesso chiedo con grande disinvoltura di ripetere o poi certo se anche la seconda volta ancora non ho sentito faccio finta di aver capito improvviso qualcosa come tutte le persone normali applausi grazie applausi 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 Grazie a tutti.